Nico è finalmente arrivato il momento di farsi una casa Io ho già iniziato a fare quello che dovevo fare Dove sei? Come fai a non vedermi? Stai abbattendo la casa? E' casa nostra deve avere spazio per essere costruita Ma non va bene quello che stai facendo, non si fa E' cattiva come cosa, questa è la casa dei villager Ora non lo è più, ora è un cantiere Dobbiamo prendere questo legno qua Nico a proposito Che si chiama Mogani, ah no questo è rosa Il Trumpet Plank qual era scusa mi aspetta un attimo Io ho bisogno del Trumpet Plank Il Trumpet Plank Dove l'abbiamo preso? Dove l'abbiamo preso? Era qua in zona mi sa sai E non lo so, io ho bisogno del Trumpet ho bisogno Parti che posso andare anche là Era lo Spawn forse ti ricordi? Ah può essere lo Spawn dove era? Era verso Teleportiera Questo? Questo come si chiama? Ma questo è OAC no zio questo non è Ma forse eravamo più in là Merci l'OAC è molto più chiaro del Trumpet Eravamo qua vero? Non ti sto guardando Sto battendo una casa Noi abbiamo fatto l'intro qui Nico Questo è OAC Ma il Trumpet qual è? Ma scusami un attimo Io voglio il Trumpet scusami Adesso non devi mettere le basi No no non cambio idea Io voglio il Trumpet in questo momento A parte che io qua A parte che abbiamo esplorato un po' di cose E qua c'è una roba che dobbiamo andare Voglio andare qui Questo qui c'è roba blu Teleportier Oh guarda qua Trampet Vediamo un po' Questo non è Questo è blu Non è Trumpet Magic Bello mi piace dai Magic mi piace Così almeno lo mettiamo vicino allo Starlight Lo Starlight è un po' troppo chiaro però Però lo posso mettere insieme a questo qua Così diventa la casa di steve fiere Palese Rosa e No davvero È proprio fatto apposta sembra Vediamo questo qua Questo mi sembra che sia OAC pure Ma degli alberi diversi non esistono in questo gioco Scusami Intanto prendo un po' di questo qua dai Un po' di questo Che non si sa mai Allora il bello di spaccare gli alberi qui Che veramente li spacchi velocissimi Però questo Trumpet Io non ricordo dove l'abbiamo preso E se cosa mi urta abbastanza Posso dirtelo Ho appena finito la mia accetta Questo è un problema E anche la mia è finita Perché c'è ancora quelle blu Di quella dimensione Ah ecco Eh mi sa che quasi Questa torna a casa Quanto ne ho aspetta Ne ho abbastanza Sì Ho trovato il Trumpet Nico È quello lì con le foglie gialle Però non penso che possiamo Che possiamo romperne tanti Quindi non saprei come fare Ci serverebbe un altro link Perché no? Eh perché non ce ne sono tanti in giro Vabbè ripeto il semino col bombino Io so È finita la casa Non c'è più Ciao Ok Ciao Intanto metti la terra E io cerco degli altri legni È che guarda Io ho questo magic qua Che è bellissimo Per carità Però ci serve qualcosa Che dia un po' di contrasto Capito? Guarda Oggi il bisogno è tuo Io oggi decorerò cose Sampilo Allora tu fai una cosa Se tu fai E Vai nelle quest Vedi che c'è una cosa interessante Decoration Fai un po' di decoration carine Ok? Tutti ti occupo di quelle Ti faccio tutte quelle cose niente Sì sì bravo bravo Allora io tierei anche Vabbè questi qui In realtà li togliamo Che cos'è questo? È una conchiglia No 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 te la rimetto Ci parliamo anche lei Fausta si chiama immagino No no Fausta Ah la patata l'hai salutata? Sì l'ho salutata L'ho picchiata infatti è morta Vai a vedere Come è morta? Eh si è morta Eh Parfum Viva ancora saltella Va bene Va bene 1 2 3 4 e 5 Come la facciamo? La facciamo grave No stai sbagliando Perché la fai attaccata alla legna? Questa è la seashore Questa è la spiaggia Ma la spiaggia la cambiamo no? No no un po' più indietro Senti vado a farmi gli attrezzi Ma che non ho più niente qua Boh tu dovresti prendermi il Il trumpet Ok? E non è il presidente degli Stati Uniti d'America Ex presidente degli Stati Uniti d'America Allora mi serve Allora stavo dicendo Il Il diamante Ma dove sono i miei oggetti? Tu cambi le cose comunque Io Voglio aggiustarle con le ceste Voglio sistemarle Ecco È il tuo compito di oggi Sistemi le ceste No Prima le facciamo la casa Poi le sistemo Allora ho fatto la caroite axe Posso andare verso questo Bellissimo coso giallo Che è esattamente qua Ctpiamo qua sopra te le portiere Poi c'è un 39 di trumpet comunque Ah sì? E io sono morto Io so Io ero morto Cioè io ero andato sopra il trumpet E sono quasi morto Perché praticamente il trumpet Ne è andato tanto Porca paletta Ti rilascio a casa Quanti ne ho? È quello che devi fare Uuuu Ma guarda quanti ne ho presi Con un solo albero Campione Abbiamo sbancato Ho vinto la lotteria Tu hai vinto la lotteria Io ho vinto Un troppo no Io sì una volta ho preso Un grattevinci da un euro Non fatelo Un grattevinci non è lotteria Allora ho preso Un grattevinci da un euro E praticamente vado in macchina Ero con il mio papà E non parte la macchina Quello è successo Però il giorno dopo è successo Mi ricordo tutto Adesso ti racconto tutto Praticamente sono andato Ero in un autogrill E siamo andati appunto A prendere questo Grattivici da un euro Si chiamava sette e mezzo Ok non so che So che non dovrei Incentivare l'acquisto Dei grattevinci Non fatelo Io non lo faccio più Da quella volta Praticamente E cosa è successo Dico che Apro sto grattevinci E vinco settanta euro Un croda un euro Ah vi già cambiato Porca paletta 2,3,4,5 E ho vinto appunto Settanta euro E tu dirai cavolo Settanta euro sono parecchi Cavolo Settanta euro sono parecchi Settanta euro sono parecchi Qui al che sono rientrato Ho detto vabbè A questo punto ho vinto Settanta euro Ma ne riprendo Ne prendo due da un euro Ok Non so così E ho vinto di nuovo Ho vinto settanta euro E tre euro E due euro Tipo una roba del genere E alla fine non ho più Preso niente Basta Beh dai un buon guadagno E se cosa sono serviti Quei soldi Per ripagare la macchina Per ripagare la macchina Che il giorno dopo La scarica 225 euro Ho un problema Mi puoi venire ad assistere Per favore Cos'è il tuo problema Ho creato un oggeggio Che dovevo fare Dei blocchi personalizzati Ma non personalizza Alchimi bench Craft Come si fa Horizontal Ma che è sta roba Non lo so Nella mia testa Era carino Mi si è creato una cosa inutile Vabbè tranquillo Possiamo funzionare Questo è un arredo Vabbè ma prova a cercare Su internet come si fa Scusa no No ma tranquillo Funziona anche l'arredo Dove sarà l'ingresso Non ne ho una minima idea Sto facendo totalmente Tutto a caso È un rettangolo questo Non è una casa È un rettangolo È un attimo Le cari sono rettangoli No 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 L'ingresso è qua davanti Ma perché metti L'ingresso dietro Questa fissa Di mette l'ingresso dietro Ma è da tre l'ingresso È storto È da uno Ma che schifo Ma che schifo da due Ma scusami Ma bisogna essere imponenti Da uno cos'è Dai l'ingresso Fallo di lato di qui E fallo da due Se proprio vuoi Basta che sia dispari la zona Allora facciamo due da due Ma no Ma è orribile così Ma sì perché c'è quello per la plebe E quello per me Ma no ma perché qua devo mettere Guarda che è una buona idea Secondo me Ma cosa è che c'ha in mente Il mio ingresso personale Eh ho capito Che è l'ingresso personale Fa schifo Questo qua tieni Cos'è Eh no è il tavolo Sempre quello Ma è sempre quello Va bene Due tre Quattro e cinque Cioè puoi togliere la pioggia Con i comandi Per favore Certamente Guarda Water clear Via Basta ci siamo rotti Veramente Che peraltro io Prima del video Ho provato a cercare un po' Così in giro Se c'era un bioma carino Da utilizzare per la casa Però Nico si è affezionato A questa zona Dove è nata patata No Non è vero Si chiama Patty Ho una domanda per te La Patty Infatti c'è dato di chiamare la serie È perché Sì è il nostro idolo Ho una domanda per te Che colore lo vuoi il letto Un colore fattibile Possibilmente Blu grazie Ok Ok no blu ce l'ho È uguale Posso farli entrambi Non le farli tutte e due Voglio due letti Voglio un letto matrimoniale No tutti e due no Ho uno e l'altro Voglio un letto matrimoniale Come tu Non si può Lo faccio blu Ma io ho perso i gambali Nelle ceste c'è un po' di roba Se li vuoi Ho perso i gambali Ma dove sono i miei gambali Oh bello di mamma Dove sono i gambali Ho usato tutta una pisazione Di che avevamo Ok bene Come la faccio La casa La faccio con medievale Possibilmente Sicuramente non la facciamo La facciamo un po' diversa Dal solito Facciamo il letto Il tetto normale Il tetto senza fare tetti Alla marci Il tetto normale Classico No io ne voglio uno bello però Ok va bene Niente tetto alla marci Cosa utilizziamo Siamo sempre questo Blocco qua Questo trumpet Siccome il trumpet è carino Perché dà un bel contrasto Con questo bianco Ma è carino Come si dice L'impalcatura del letto Di che legno la vuoi Pure quella puoi scegliere Sì ma solo quelli vanilla Purtroppo siamo limitati Voglio il trumpet Ho detto quelli vanilla No io ho visto che il trumpet Si poteva vedi Non si può fare il letto Mangrove allora No dove la trovo il mangrove Ma non ho neanche quello Bambù mi piace perché è giallo Ma mi Faccio di oak Scusa Mi chiedi Ti dico Non abbiamo niente Siamo poveri Con lo spruce almeno Lo spruce Dove lo prendo E vabbè È andata così ragazzi Purtroppo è una giornata difficile Oggi per Nico Ok Non solo oggi immagino Cosa ti è successo oggi Nico Che sei arrabbiato Non sono arrabbiato Sei troppo esigente Non fai niente Ho fatto 16 puscini Puscini Hai fatti puscini I puscini sanno bianco Come lo faccio il tetto Lo faccio sempre di trumpet Aspetta Ho un'idea Ho un'idea Un secondo Ho visto che Dalla sezione delle quest però Noi possiamo fare una cosa interessante Ok Che si chiama Guarda se tu vai in curiosities Hai il sawmill Che è un stone cutter per il legno E si crafta con un ferro Delle fence e delle slab E lo faccio subito Fence ferro slab Ferro ce l'abbiamo vero? No Come no? Di sopra una fornaccia che cuoce Ah è vero 22 pezzi Qua c'è anche del legno Il birch Il birch Ma cos'è questo? Un legno? Un letto? No non toccare le mie cose Vai a costruire casa tua Ma perché c'è un tizio che ci ha rubato? Vabbè Eh amico di patti Senti facciamo una cosa Mettiamo a far crescere anche il trumpet qua Guarda che bello Farlo crescere Ma sì ma hai rubato tutto Quello che c'era la grafting? Non ho preso niente zio Mi hanno dirubato Te lo giuro che non ho preso niente Nico Davvero non ho preso niente La mia lana blu Alladro Io non ce l'ho Non ho niente Alla fence No queste sono gate Perché mi sbaglio sempre Anche voi vi sbagliate Dimmi che ti sbaglia anche te per favore Io non le so fare quelle cose Le cose non Non fanno per me Non fai cancello Come si fa? No non faccio cancello Li rubo dai villaggi Ok va bene E come cavolo si faceva? Mi sono già dimenticato Ferro Ah no stick sopra E ferro E ferro Non era così Mi sa che col blu non si poteva fare vero? Penso che non si potesse fare E tu che hai visto cose strane Che non so neanche cosa Ah no Ah no aspetta Servono tanti stick quindi così Eccolo qua So Vediamo un pochettino com'è Ti sto buttando un po' di roba addosso Sato Tranquillo tanto Lo metti in casa questo So So ma che bello So So l'enigmista E vediamo se funziona Caffing Mamma mia sei ingestibile Ma funziona benissimo bro No Ci sono le slab verticali Ma chi le ha messe? Ma ci sono Io no Ma ci sono tutte le sedie I sassi I letti Ma potevi farli qua i letti allora Vedi? Ma ci sono anche Ci sono anche le tazze No vabbè che spettacolo Si vede che non sei un bravo giocatore Comunque E cosa vuoi da me che sto facendo un letto? Non sei un bravo giocatore Non sei davvero un bravo giocatore Anche se il tetto potevamo farlo un po' diverso magari no? Come lo faccio il tetto? Lo faccio alla marcia o no? Che dici? A me non funziona il crafting a letto Sto per davvero insultare ogni cosa esistente A me non mi interessa Ti sto chiedendo come vuoi il Come vuoi il Voglio il tetto che stia sul tetto Quindi sopra Di conseguenza alla marcia Ah quello che va lì in su Ok va bene Perfetto Guarda bisogna anche mettere un po' di torcia Te lo dico Perché sennò la situazione è degenera Ok mi faccio una scalettina così Alla marci Bene quindi alla marcia vuol dire scala Ecco la scala Ma come ho fatto? Io ti giro per arrabbiarmi veramente tanto Cavolo è appena successo Ragazzi l'avete visto vero? L'avete visto? Cioè è successo qualcosa di strano Nico No Nico è successo qualcosa di strano Io sono amareggiato Un momento Ah ho capito qual è il problema No Marci Il tuo letto blu mi sta creando veramente tanti problemi E quale sarebbe che hai preso una lana blu che non c'entra? No è che devo fare 16 cuscini blu per avere il tuo cavolo di letto Oh finalmente qualcosa di bello Ok Non è bello Ok Mi servono un po' di queste scale qua Perfetto Ma questi scheretti qui hanno un po' scartavetrato le scatole comunque Anche le palle No Non era quello che intendevo Ok Questo qua si possono fare le scale Sì C'hanno queste scale qua Voglio fare il contorno del tetto blu E poi il dentro rosso Ti va bene se faccio Io se non riesco a fare un letto entro alla fine dell'episodio Te lo giuro non faccio più video Ma come non fai più video? Cosa vuol dire? Non riesco a fare un letto Ma davvero? Ci sei riuscito? Ma come si fa? Ma per l'amore del letto Ma è un po' alto il tetto come sta venendo così comunque Te lo dico io eh È un po' un tetto alla marcia Che da qui in poi È più dritto Sì dai lo facciamo più dritto da qua in poi Non so sto provando a fare un tetto alternativo Te lo dico eh Ma c'è quello C'è questo qui Sì dai perché sennò poi viene un po' troppo esagerato Ok qui magari possiamo fare così Così e così Prova a vedere da davanti com'è per favore grazie Ma con piacere almeno non guardo questo letto Perché davvero Ma ma è barricato dentro casa Ma come non è vero? Vabbè dai non è male Ti piace? Dai è carino È un po' bruttino Perché qua doveva No lo facciamo a marcia normale Altro che Che schifo Cos'è sta roba? Che schifo Che schifo Come mi sono permesso di fare una roba del genere? Mamma mia Ho proprio sbagliato tutto nella vita qua eh Dai ma guarda Ci sono un sacco di cose belle da fare con questa mod Ma perché io non le so fare? Perché non sei capace a fare i crafting magari Ma dici che ho un problema io? Sì magari sì Vuoi che far provo io? Senti qua c'è da finire il tetto Vieni a farlo te No tu la No Sì ho capito Ma devi fare una cosa veloce Guarda così Ti piace di più il tetto Così mi piace di più Cos'è cambiato? Adesso Perché c'è una tartaruga dentro casa? È più ripido Sì è molto meglio così Mi metto un albero in mezzo che mi urta Sì dovresti toglierlo Però non si toglie tu Oh Non c'è più Non doveva togliere Vabbè Ok Oh ma ha dato il Redwood Log Dammi sto Redwood Log E dove lo metti questo Redwood Log? Cavoli era rossissimo È arrossato dici? Sì Un pochettino sì Eh la pomatina forse gli fa qualcosa Marci te lo giuro Io oggi ti auguro davvero le cose peggiori del mondo Allora devo solo capire un attimo una cosa Decoration come si fa il letto Allora il letto Facciamo questo qua Allora Il letto lo faccio io Devo riuscirci entro la fine dell'episodio Tu fai la casa Oh che fancy bed Allora Si fa con un cuscino E un orange sheet Ok Il cuscino si fa con delle lane Ok Non funziona il crafting Ho tutto Anche il red sheet hai fatto? Sì Ma tu le lane dove le hai prese? Le stringhe E quante stringhe abbiamo ancora? Non ne abbiamo più Però ho le cose per fare un letto Ma vediamo un po' Vediamo se c'è qualcosa di sbagliato Questo è un cuscino Tieni Dammi un attimino le cose Prova a vedere se Come funziona Tieni 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 E tieni Divertiti Fammi vedere come si fa questo letto Mi dici che c'è missing Dici che il purple sheet che hai è sbagliato Oh capito Eh capito È perché sta mod fa cagare Ci sono più cose che si craftano con sto crafting Eh mi dispiace E quindi come fai? Eh niente ho risolto in realtà Però è molto Ho un letto Ho un letto Ma il letto è bianco Non era blu scusami Ho usato le robe blu Vabbè mettilo giù Vabbè comunque è bello dai Dormiremo entrambe in un letto bianco Ti va bene? No hai diventato tutto Guardalo Ah ok è a posto Ma io lo voglio giallo però adesso No adesso ti c***o Literalmente perché guarda Metto ste tre Guarda che carino il tetto Viene piuttosto ad aiutarmi a fare il tetto Vado a fare ora Devo fare un altro letto Ma piuttosto fai altri arredi no? Hai ragione Facciamo altri arredi Allora dopo il letto c'è il divano Cioè io boh veramente Non lo so Il divano è semplice Il divano te lo faccio subito Tu quando eri piccolo Non è che sei grandissimo adesso Vabbè sì comunque Vabbè sei piccolo Vabbè quando eri piccolo I tuoi genitori hanno mai cambiato il divano a casa? No Ok niente Fai niente No niente Non ti racconta allora Che niente Non l'hanno cambiato Devo dirti No perché praticamente No abbiamo cambiato il divano a casa Quando io andavo in terza media Ok Nell'estate della terza media Quindi tanti anni fa E mi ricordo Io ho il divano grande Quello con la L È presente Quello dove ti sdrai Deluser Ah sì ho capito La L di loser sì Quello alla L di loser E praticamente mi ricordo Una cosa interessante Che quando sono entrati Non ci stava il divano Non riusciva a entrare Hanno provato a farlo Entrare dalla finestra Ok Diranno Sì perché non c'entrava dalla Perché sono al primo piano Ok Da te non so cos'è il primo piano Cioè piano terra È il primo piano Ok Perché in altri paesi Tipo il primo piano È il piano terra Vabbè comunque insomma Sono entrati Dalla Dalla porta E non c'entrava In nessun modo Non riusciva proprio a passare Dalle scale Niente Allora che hanno detto Vabbè entriamo dalla finestra Tanto in tanti fanno così Come cosa Mi hanno sfondato La tapparella Letteralmente Cioè tutte le sfortune La vita assurda Insomma Ho 25 anni È normale che Io debba Io ho dei racconti Interessanti Da Le sfortune Le racconto Allora aspetta un attimo Che qua magari Possiamo anche fare un Potremmo fare una zona In cui rientra Qua facciamo 4 Noi sono andata Grande Guarda quanto Cosa sto craftando Eh ti sto guardando Zio bellissimo Però magari farei anche Il pavimento Prima di metterli No quello è un tuo compito Il costruttore li fa Ma zi ma aiutami no Ma sei inutile sei Sto facendo arredamenti Io non sono d'accordo Con quello che stai facendo Cioè prima del video Eravamo d'accordo Ma non così tanto Ho bisogno di una mano Ma io purtroppo Non sono del mestiere Ma cosa vuol dire Che non sei del mestiere E la chiamo Un faregname Cioè stai craftando Tutta la sezione quest Decorazioni Sì sì no Perché sono semplici Vediamo un po' Un po' riguardo la casa eh Ma fammi vedere un attimo Quanto è che Cos'è che ci danno Queste cose qua A XP ci danno Oh carino Eh vedi Ti sto pure livellando Grazie bro Sono al livello 37 Dopo posso incantare qualcosa Godo tantissimissimissimo Poi fammi sapere Qual è la sedia Che ti piace di più Perché ci sono solo sedie In questa sezione Ma fai quello che vuoi Dai non c'è Fai quello che vuoi Io mi fido di te No ma questo è chiaro È che vedi Ce ne sono un po' Di sedia Casa nostra è solo sedie In questo momento Casa nostra mi chiedevo se Qual tiene vuoto Vieni con me Sì esattamente Volevo dire se è attento Allora qui sotto Devo mettere delle altre scale Giusto Sì ok Solo qua devo metterle però Hai del calci Hai della calcite La calcite Dove la trovo la calcite Eh questo non si può craftare Mannaggia Peccato Se mi dici dove trovo la calcite La vado anche a prendere Io so Miniera Eh vai tu in caverna Dai Eh no è che ho da fare ora Ma quanta roba stai craftando Eh no è che Il mio lavoro lo svolgo bene Eh io no Non un pirla Ancora la casa non c'è Ma stai vedendo Quello che sto facendo Ancora non c'è niente Mamma mia quanto siamo indietro Adesso dormo nel tuo letto Ma no Non penso che funzioni così No Nico no Non dormi No non dormi nel mio letto Zio dai no Nel mio letto no Non è ancora Buon risveglio Due tre Mi hai fatto Mi hai fatto perdere Uno due tre Quattro e cinque Ok Il quinto rientro Ho finito il No ho finito i magic And magic in summer Allora la cosa bella ragazzi Che mi tipo praticamente qui Faccio così Teleportier E attenzione Attenzione ragazzi Colpo di scena clamoroso Guardate che bella Io adoro sta mod Perché a me Potete dire tutto ok È bello farmare tutto Però almeno Qua ti tipi Ti butta via tutto l'albero È tutto carino È coccoloso Secondo me Siamo veramente a cavallo Secondo me La casa è anche carina Quindi siamo ancora messi meglio Perché non mi prende questo pezzettino Ok Posso tiparmi da Nico Nico dove sei? Dove sei? È la casa Vieni pure Vieni pure Anzi mi teleporto qua sopra Vediamo se mi teleporta Come prima sopra Sì E si volas Ok Forse potevo fare leggermente più grande Questa zona Magari la faccio dall'altra parte Più grande Ma sì Ma sì Va bene così Va bene Io faccio il mio lavoro Eh vieni a darmi una mano Fai il pavimento No ne ho un altro allora Ma cosa vuol dire che ne hai un altro? Che vuol dire? Che questo lo mettiamo È troppo finestra questa casa Potresti modificarla? Troppo finestra cosa vuol dire? Eh ci sono troppe finestre Non mi piace Ma con cosa le tolgo? Con il piccone Con l'accetta Non mi piacciono i colori di questa casa comunque Cambiamola per favore No non esiste proprio Ma non hai capito un cacchio nella vita Ma perché hai voluto usare questo trumpet? Mi pareva carino È veramente brutto Dopo lo cambiamo Va bene dopo lo cambiamo Con word edit Però non c'è nel server No tranquillo Lo facciamo mettere Ok Riesci a farmi delle scale? No di cosa? No le faccio da sole Le faccio da sole Non ti preoccupare Oh come bella redata Mi piace? Le ho messi a caso Il pavimento di cosa lo vuoi? No dai scelgo il pavimento Il pavimento fallo tipo di coblesse Non ti prego Ho detto che lo scelgo io Non di coblesse Cioè di stone intendo Così Così Questo lo mettiamo qua Ok Scala scala Qua ci stanno gli occhi Scala scala muro Ok sì Siamo su fortemente di colpo No dai carino Ma perché non ti piace? Davvero non ti piacciono i colori? No è orribile Siccome è strano Troppi colori Pare arlecchino Eh sì Il blu non ci sta vero? No il blu mi piace È l'altro che suona col blu Eh ma cosa metti insieme al blu? E qual è il problema? Dopo vediamo Non ti preoccupare Dopo vedo io Dopo useremo i cheat Sappiatelo È che non c'è world aid nel server Che io non posso cambiare Non ti preoccupare Non ti preoccupare E poi dobbiamo utilizzare blocchi Che abbiamo Non è che si possono usare cose che non abbiamo Certo Due patti non ce l'avevo Eh lo so che te lo sei citato Patti Lo sanno tutti Lo sanno Anzi Dami mi ha pure scritto E mi ha detto Dami l'editor Mi fa Marci ma posso lasciare la parte in cui dici Che lo prendi in creativa? E ho detto Certo Ci manca arrabbiata La gente deve sapere Che è un cheater Come loco Ma io patti È la mia mascotte Non è un cheat Non fa nulla patti Io voglio Ascolta Ascolta Fammi conto Non dire cose brutte su patti eh Allora Mi serve un pidgeon Un uccello? Non ci sono i pidgeon I piccioni Pijama Io voglio pijama in questa serie Dobbiamo aggiungere la mod Che mette pijama Non ho capito Eh quando bisogna dire le cose Bisogna dirlo Puoi metterne anche una Che ci fa indossare i pijami a noi? Va bene Ma che cos'è? No è perché ci tenevo Ma cos'è? Smetting table Ma ti piace almeno adesso Un po' di più? No Ma è carina dai Facciamo anche tipo Il fuori qua dai Per le qua ci vogliono le scale Dai qua facciamo il fuori Facciamo una zona tipo secondaria Però mi servono le slab Sempre di qua Ma quindi trumpet proprio zero? Non lo vorreste No Non mi piacciono E come faccio io? Proprio lo togliamo Non ti preoccupare No ma non possiamo togliere Nico dai Eh ma tu c'eri gli occhi e scompare Facciamo scegliere i fan piuttosto Eh ma io sono fan Ok Allora facciamo così ragazzi Adesso battiamo le mani E vediamo cosa ci combina Nico dai Sappiate io No un attimo Ora stai facendo il pavimento Perché secondo me una casa blu è carina No quello non avevo L'avevo detto nel video Che volevo fare quello Ma non Ma il blu no Basta blu ti prego Il blu Ma adesso lo facciamo tutto blu team Ho barricato una tartaruga in casa Sappilo Ma tutto blu no Ti prego è troppo Ma sono varie sfaccettature di blu Ma è un blu uniform Come facciamo Allora ascolta Va bene il blu Però cosa ci mette di fianco al blu Il verde No ma che dici il verde Non ce l'abbiamo neanche il verde Oh sta sedia alla sfondo No log Vediamo il log Cosa vuoi mettere? Non c'è un log verde Non c'è Il log verde non c'è C'è uno Lo aggiungiamo C'è quello di azalea Bello Aggiungiamolo È verde No se vuoi utilizziamo qualcosa che è simil blu Qualcosa di bianco piuttosto Lo strip jacaranda log E che cosa hai appena detto? Il jacaranda Ma chi è jacaranda? Il jacaranda nella vita in città era rosa Me lo ricordo Plank Allora un plank Guarda è bello Vertical warp planks Bello questo eh No no utilizziamo quello bianco Il jacaranda log Ma dove lo troviamo il jacaranda? Adesso andiamo a cercarlo A giacarta? È in indonesia a giacarta vero? A buddhavi A buddhavi Però vedi che con l'alchemy ci serve L'alchemy ci fa cambiare i letti I colori Ah prova a metterlo Eh non c'è Dobbiamo andare a prenderlo nel neverdown No l'alchemy È in alchemy Ma l'alchemy bench dici? No L'alchemy e basta Io non ho capito cosa fa St'alchemy bench Comunque in tutto ciò Ma cioè noi abbiamo arredato casa Ma le ceste dove le mettiamo Nico? Guarda che la metà delle cose sono ceste E ho capito Ma voglio capire che cos'è E cliccaci Ci mettiamo un cartello Un armors Vediamo adesso Mamma mia ragazzi Che difficoltà Aspetta mettiamo Oh ma tu cosa hai fatto in tutt'oggi? Che testa la mente e basta Assolutamente io non ho fatto niente Ah infatti Fatica Ma il Jakarta dove? Vai a cercare il Jakarta Guarda qua facciamo così Ma vuoi fare? Perché non si può mettere Oh mi stai veramente urtando Non mi piace questo ingresso Rifacciamolo No non esiste proprio Ma Nico non esiste È troppo grande Ma cosa vuol dire che è troppo grande? Stringiamolo Ma infatti te l'ho detto prima Gli stringiamo che mi sembra Stringi anche qua Non ho più Trump Ma che è? Non so Ma Marci non è pari Ma per l'amor del signore Mi serve Trump Ti ho detto Metti qui Trump Non ho Trump Oh io non ce la faccio più Veramente ingestibile C'ho pensato adesso Vedete che Trump ha il ciuffetto biondo? Eh Eh guarda l'albero di Trump Non credo sia fatto apporto Non lo so vado a cercare il bianco va Abbiamo finito di fare la casa Mancano un po' di cose Perché qua insomma A parte che ma è diventato Ma è diventato Non è finita casa Non è quasi finita Ho detto Non ho detto che è finita Ho detto è quasi finita Mi sembra Non ho detto che è finita Ho detto è quasi finita È diversa È finita Comunque secondo me È super mega carina Dobbiamo lavorarci un pochettino Abbiamo fatto anche un secondo piano Con questa zona qua Qua mi sa che apriamo tutto Insomma Speriamo che vi piaccia Ci vediamo ragazzi In un prossimo video Guardate che bella C'è proprio una casetta da Ho fatto anche l'ingresso Fanno vedere A Nico non piace Assolutamente il Trumpet Lo cambieremo Il giacaranda Non l'ho trovato Perché in teoria Puoi dare il glass breaker Intanto che parli per favore Il glass breaker Quell'hai rubato Quella cosa strana Dove l'ho metto qua? No Sopra c'è la fabbricazione Guarda Ok Bello Bello Cos'è che fa sta roba? Eh Fa cose belle Continua a parlare tu Ciu by ciu Ma cos'è? Ma io voglio sapere cos'è Adesso te lo mostro Dove l'ho metto qua? Come Come Grazie.